Spunti e spuntini, mani e cuore per il Calcit, mille coperte di solidarietà. Ne parliamo insieme con Giancarlo Sassoli, presidente del Calcit di Arezzo, e Lucia Bianchi, collaboratrice. Grazie per essere qui con noi a Spunti e spuntini. Presidente, abbiamo detto mille coperte per la solidarietà, però questa quota, questa cifra, l'avete ormai superata? Sì, le mille coperte erano un'indicazione iniziale, già nella prima edizione fatta due anni fa, che ci permettevano di coprire il mattonato di Piazza Grande. Poi nel lavorare le coperte da mille sono arrivate a mille e cinque, addirittura anche di più, perché ormai le persone avevano preso mano e non volevano smettere di farle, ma questo ovviamente ci permette di fare ancora più bella Piazza Grande. Indubbiamente queste immagini testimoniano anche quale sia il vostro impegno e soprattutto quale sia anche l'aspetto scenografico che caratterizza questa manifestazione, aspetto scenografico che nel nostro piccolo abbiamo cercato anche di riprodurre qui in studio. Lucia Bianchi, queste coperte, ciascuna sono l'una diversa dall'altra? Sì, queste coperte sono una diversa dall'altra. Noi abbiamo dato libertà alle nostre donne di lasciare spazio alla loro fantasia, alla loro creatività ed effettivamente viene fuori dei lavori incredibili. Qualcuna scrive, qualcuna fa dei lavori veramente eccezionali. Questo permetterà di avere una piazza ancora più variopinta, di colori e più bella. Indubbiamente sono molto particolari e suggestive, denotano anche una notevole abilità manuale. C'è da dire anche un altro aspetto, Presidente. Queste coperte, il fatto di essere impegnate a svolgere questa attività per molte persone che immagino siano anche sole, può essere un passatempo, un diversivo molto importante che le fa tenere vive, partecipi anche della realtà. Sì, questo diciamo che lo abbiamo scoperto con l'andare del tempo. Che fare le coperte, siccome ovviamente la maggior parte delle persone che fanno questi lavori sono persone adulte, permette a molte di loro anche di occupare del tempo, siccome le giornate sono lunghe. E devo dire che è un aspetto sociale che sta diventando una delle parti più importanti di questo progetto. che, come ripeto, non solo ha l'obiettivo di raccogliere fondi, ma anche questo di coinvolgere la città, ma tutta la provincia di Arezzo. Questo è un aspetto da tenere molto in considerazione. Molto in considerazione. Fra l'altro arrivano anche delle segnalazioni attraverso alcuni siti alla stampa. Si parla già della prossima edizione in programma domenica 26 maggio. E a questo proposito c'è da dire che 20 coperte di lana della casa di riposo Fossombroni al Calcit, perché lo storico istituto cittadino ha rinnovato anche quest'anno la sua adesione al progetto Mani e Cuore. Negli ultimi mesi addirittura, e questo è l'aspetto presidente che merita di essere messo in evidenza, ha ospitato una vera e propria maratona di cucito, dove alcuni ospiti si sono messi ai ferri per portare il loro contributo ai bisogni del territorio. Questo si riallaccia un po' a quanto diceva in precedenza e denota anche la collaborazione che esiste tra Calcit e casa di riposo. Sì, è la casa di riposo la seconda volta che ha aderito. Il ritiro delle 20 coperte l'ha effettuata la Lucia Bianca insieme alle sue colleghe che sono la Iole e la Cristina, le quali sono state loro che hanno avuto questa idea e l'hanno messa in pratica. Perciò Lucia ci può anche raccontare l'incontro che ha fatto con la Casa Pia, ma anche il rapporto che ha con altri gruppi di Cassi Onfibocchi, del Valdano. Anche di Monte San Savino, perché mi sembra che questa iniziativa sia stata ospitata anche a Monte San Savino. Prego Lucia. Sì, effettivamente è stato importante il coinvolgimento di cui parlava il Presidente, il coinvolgimento sociale che ha preso questo progetto. Ecco, una delle cose che ci ha colpito di più, non possiamo nasconderlo, è stata la Casa Pia. Andare a ritirare le copertine, vedere la loro gioia di poter essere utili a fare qualcosa per il Calcit. Cioè è più quello che ha dato a noi che quello che noi abbiamo potuto dare a loro. Oltre, come diceva lei, c'è il coinvolgimento del gruppo di Monte San Savino, dove l'anno scorso abbiamo potuto ripetere un po' l'evento della distesa delle coperte per il centro storico del paese e altri gruppi della provincia, fra cui del Val d'Arno e il gruppo di Castiglion Fibocchi del lavoro a maglia della Proloco. Ecco, tutto questo, oltre a questo, ci sono tante altre persone singole che nelle loro case passano tempo, come diceva il Presidente, essendo persone anche grandi, passano il loro tempo facendo queste copertine e occupando appunto il loro tempo in questa maniera, ecco, facendo del bene. E collaborando con il Calcit. Presidente, lei ha davanti a sé una borsa in cartone, mi sembra, con dei disegni dei ragazzi, immagino siano disegni dei ragazzi delle scuole, quindi c'è un rapporto diretto anche con gli istituti scolastici del territorio. Sì, perché diciamo, all'idea di fare le copertine, è venuta poi anche l'idea di come consegnare queste coperte e appunto è venuta fuori l'idea di consegnare ad alcuni istituti, diciamo di Arezzo, ma anche della provincia, delle buste bianche e farle disegnare ai bambini. Perciò insieme alla coperta ci saranno anche mille, mille e cinquecento buste disegnate da bambini, perciò c'è un coinvolgimento totale. Si va dalla persona adulta fino proprio veramente agli anziani, perché ci sono anche persone che hanno oltre 90 anni che sono impegnate in questo progetto, ai bambini, perché chi disegna prevalentemente sono i bambini delle elementari, i bambini delle medie, perciò alla fine abbiamo messo veramente da zero a cento anni. E' una cosa che noi anche ci teniamo a coinvolgere, perciò se ci sono, dove vediamo degli spazi dove coinvolgere, quest'anno per esempio voglio fare anche, ci ha dato una mano anche la fondazione Monnalisa che ci ha presentato questo gruppo del Valdarno, ci ha fatto avere della lana da Cucinelli, dalla Melis, si è veramente messo un moto, un meccanismo che obiettivamente all'inizio nessuno poteva presagire. E sono a offerta oppure c'è anche un contributo che può essere dato? Diciamo che parliamo sempre di contributi, indichiamo anche un minimo, perché effettivamente in ogni coperta c'è tanto lavoro, c'è lana di recupero, però dove non si riesce a recuperare la lana, magari si chiede il contributo ad alcune persone, perciò diciamo sono costi che non li fa il calcite, ma sono dati dalle donazioni piccole o grandi, perciò insomma un minimo c'è. Lucia, sono delle coperte belle, sono avvolgenti, sono fatte tutte a mano? Sono fatte tutte a mano, sono tutte un metro per un metro e sono calde, possono accompagnarci mentre stiamo nei nostri divani. Indubbiamente. La partecipazione c'è molta volontà, molto desiderio. Ho l'impressione che mi raccontavano che si crea quasi, tra virgolette in senso positivo, una sorta di gara tra chi prepara queste coperte. È una sorta di gara, sì, infatti noi abbiamo un gruppo WhatsApp dove via via le copertine sono terminate, le pubblichiamo, le facciamo vedere, ci facciamo complimenti e la volta dopo sicuramente ne nasce una, prendendo spunto appunto dalle idee degli altri, ne nasce una diversa e come dicevo prima sono tutte diverse, una dall'altra. Abbiamo parlato di Arezzo, abbiamo visto anche alcune immagini di Piazza Grande, però abbiamo detto anche che questa iniziativa più che meritevole viene anche tra virgolette esportata in altri luoghi della provincia, tra cui per esempio anche Monte San Sabino. La risposta è stata la stessa che è stata data ad Arezzo, cioè la solidarietà è una solidarietà diffusa immagino. Monte San Sabino lo sappiamo tutti, è un paese che è molto vicino al Calcit per tante iniziative, non solo per questa e anche in quell'occasione ci fu tanto riscontro, ecco ci fu una bella accoglienza in tutto il centro storico e fu una bella giornata. Presidente, è inevitabile un riferimento generale all'attività del Calcit, questa iniziativa come si inserisce più in generale nelle vostre attività? Dunque, intanto è diventata un punto fisso, un po' come il mercatino la seconda domenica di maggio, questa è sempre nel mese di maggio, ma è già un punto fisso che noi lo abbiamo messo biennale perché ovviamente ci vuole il suo tempo. C'è anche da aggiungere che i fondi che raccoglieremo attraverso questa iniziativa saranno destinati prevalentemente al centro di senologia del nostro ospedale, un'attenzione che noi abbiamo messo da sempre, ma che adesso va anche a sostenere delle cose che apparentemente sembrano così leggere, ma in effetti sono importanti, ne cito una per tutte, noi facciamo delle borsine per le donne operate al seno per il drenaggio, che anziché avere una borsa così anonima, c'è una borsa colorata che poi potrà essere usata anche dopo l'uso che ne è stato fatto. Presidente, il calcit lo sappiamo esiste dal 1978, avete la consapevolezza in questo momento a distanza di tanti anni dell'importanza che avete assunto in ambito non solo locale? Dunque, sicuramente abbiamo la consapevolezza che al calcit è stata data una responsabilità non solamente sull'acquisto di strumenti o sul sostenimento di servizi particolarmente utili come il servizio scudo, ma anche un po' come diciamo occhio e attenzione a quello che è la sanità pubblica, perciò qualche volta, anche se non è proprio la nostra missione, però ovviamente dobbiamo anche stare attenti a come si muove la sanità pubblica in modo che non ci porti… Ecco, lei stesso in passato più volte è stato interlocutore, no? Certo, quando vediamo qualche pericolo per alcuni nostri servizi ovviamente ci muoviamo e devo dire che siccome ci muoviamo con una città dietro ovviamente siamo anche ascoltati. Noi ringraziamo il presidente del Calcit di Arezzo Giancarlo Sassoli e Lucia Bianchi, collaboratrice del Calcit, per essere stati qui insieme con noi a spunti e spuntini. Abbiamo parlato di mani e cuore per il Calcit, mille coperte per la solidarietà, ma con soddisfazione abbiamo detto che la cifra delle mille coperte è stata superata e adesso quindi si viaggia verso le 1500. Grazie ancora, la linea può tornare alla regia. Grazie a tutti.